Il Boulevardier è un intramontabile cocktail classico che combina whisky americano, vermouth e bitter in una miscela ricca e complessa che ha affascinato i professionisti e gli appassionati di cocktail da sempre. Benvenuto o benvenuta su Cocktail Engineering, io sono Matteo Squassoni e in questa video lezione scopriremo le caratteristiche che rendono il Boulevardier un elemento imprescindibile nel repertorio di ogni bartender. Parleremo degli ingredienti, delle tecniche per prepararlo, esploreremo i possibili bilanciamenti e ti offrirò alcuni suggerimenti per creare interessanti twist on classic. Iniziamo con un po' di storia. Per quanto ne sappiamo oggi, il Boulevardier è stato creato negli anni 20 a Parigi durante il periodo del proibizionismo negli Stati Uniti. Il suo creatore è uno scrittore americano che viveva proprio a Parigi, fondatore della rivista The Boulevardier. Il primo riferimento al drink appare nell'iconico libro di Harry McElon intitolato Bar Flies and Cocktails del 1927, con una ricetta che prevedeva parti uguali di Campari, quindi Bitter, Italian Vermouth e Bourbon Whisky. Se ci segui o se hai visitato il nostro sito saprai sicuramente che c'è una sezione dedicata alla storia della miscelazione nella quale troverai anche la storia del Boulevardier di Lucio Tucci, ricercatore e storico della miscelazione. In questo contenuto Lucio approfondisce le origini, l'evoluzione della ricetta e tanti altri aspetti, tutto supportato da documenti storici. Dai un'occhiata perché, come diciamo sempre, conoscere la storia di un cocktail è molto importante per comprenderlo a 360 gradi. Spesso il Boulevardier viene associato al Negroni perché presenta effettivamente una ricetta molto simile. Viene descritto come Negroni con whisky al posto del gin. Nulla di sbagliato in tutto questo, ma è bene precisare che a livello storico questi due cocktail, per quanto ne sappiamo oggi, non si sono mai incontrati. Ma torniamo a noi. Il Boulevardier è entrato nella lista IBA nel 2020 con questa formulazione, 45 ml di bourbon, rai whisky, quindi sostanzialmente un whisky americano, 30 ml bitter campari, 30 ml sweet red vermouth, il nostro caro vecchio vermouth classico o all'uso di Torino. Il metodo di preparazione indicato è stir nel mixing glass con servizio in coppetta. Ma tu come fai il Boulevardier? Con che dosi? Lo servi in coppetta? Con ghiaccio? Che prodotti usi? Sono sicuro che anche a te sarà capitato di partecipare o assistere a discussioni del genere tra i vari bartender o tra colleghi. Ma prima di arrivare a delle risposte è opportuno fare alcune considerazioni sui prodotti, ma anche sui possibili bilanciamenti e infine sui metodi di preparazione e modalità di servizio. Quindi entriamo un po' nel vivo. Partiamo dalla scelta degli ingredienti. Il primo è il whisky, che nel Boulevardier rappresenta l'elemento strutturale, quello che dà la forza alcolica. Tradizionalmente si usa un whisky americano, l'indicazione della ricetta originale è bourbon. La ricetta IBA aggiunge la possibilità del rai. Puoi scegliere un bourbon, ad esempio per un profilo un po' più classico, un rai per una nota un po' più speziata. Puoi usare anche un Tennessee whisky oppure addirittura creare un blend dei tuoi whisky americani preferiti. In questo caso ti consiglio di scegliere prodotti con caratteristiche diverse tra loro e di ragionare molto sul blend in relazione agli altri ingredienti. Dovrai fare diversi test per raggiungere il bilanciamento perfetto. Il vermouth nella Boulevardier apporta dolcezza, morbidezza e aromaticità. Sul mercato italiano ci sono tantissimi vermouth, che è casa nostra, quindi opta per un sweet vermouth, detto anche vermouth rosso o all'uso di Torino, di ottima qualità. Puoi prendere in considerazione anche i vermouth vanigliati, che daranno un'ulteriore nota aromatica al cocktail. L'ultimo ingrediente è il bitter, che apporta al Boulevardier, oltre a un po' di dolcezza, la sua caratteristica nota amara e aromatica, più marcata rispetto a quella del vermouth. Nelle varie ricette viene indicato spesso il brand Campari, sicuramente un'ottima scelta, ma come ben sai oggi sul mercato ci sono diversi bitter di ottima qualità. Quindi scegli il tuo preferito, purché si in linea con la categoria merceologica, e sperimentalo insieme agli altri ingredienti. Inutile sottolineare l'importanza delle conoscenze merceologiche. Conoscere le caratteristiche dei singoli prodotti ti aiuterà a combinare gli ingredienti nel migliore dei modi, e questo vale per tutti i cocktail, non solo per il Boulevardier. In generale comunque ti consiglio di non fissarti tanto sui brand in sé, ma piuttosto sulle caratteristiche organolettiche dei vari prodotti. Veniamo ora alle questioni di bilanciamento delle dosi. Se ci segui saprai bene che non siamo molto d'accordo con l'idea che le ricette siano concetti rigidi e immutabili da seguire senza eccezioni. Capire che le ricette sono punti di partenza è fondamentale per un professionista, altrimenti non avrebbe senso parlare di bilanciamento ed equilibrio. Soprattutto in un momento storico come questo in cui abbiamo a disposizione moltissimi prodotti tra cui scegliere. Come bilanciamo quindi il nostro Boulevardier? Quindi partiamo a capire che il bilanciamento di una ricetta prevede dei piccoli aggiustamenti ai dosaggi al fine di ottenere un cocktail equilibrato. Questi aggiustamenti devono tenere conto di diversi parametri come i gusti dei clienti, il contesto, le caratteristiche dei prodotti scelti. Tuttavia, nonostante l'importanza di bilanciamento, il nocciolo della questione è non stravolgere i pilastri fondamentali della ricetta. Ma come si fa? Qui mi rivolgo ai bartender con un po' meno esperienza. Una volta, diciamo, stabiliti i prodotti e la dose di servizio del tuo Boulevardier, un parametro standard potrebbe essere ad esempio 90 ml, potrai equilibrare diversi ingredienti per ottenere il tuo bilanciamento ideale. Considera quindi le caratteristiche organolettiche, come abbiamo già detto, dei prodotti che utilizzi e il risultato finale che desideri ottenere in termini di forza alcolica, dolcezza, amarezza e sapore in senso generale. Facciamo quindi qualche esempio. Se desideri che il tuo Boulevardier sia più intenso e incentrato sul distillato, aumenta la quantità di whisky. Un punto di partenza potrebbe essere proprio la ricetta IBA. Per un cocktail più morbido e avvolgente, riduci le dosi di whisky bitter incrementando quella del vermouth. Se invece vuoi spostare l'accento sulle note amaricanti, puoi aumentare leggermente la dose del bitter. Si tratta ovviamente di sfumature, ma con questi piccoli aggiustamenti potrai andare a personalizzare il tuo Boulevardier in modo chirurgico. Passiamo alla modalità di servizio, un altro importante parametro da considerare nell'equazione e avrà un peso significativo sull'esperienza del cliente. Tralasciando le sensazioni tattili, i fattori che entrano in gioco in questo caso sono temperature e diluizione, che ovviamente dipendono dalla tecnica di preparazione in primis e dalla modalità di servizio. Una volta stabilito che la tecnica di preparazione sarà quella del mixing glass, potremo servire il Boulevardier in coppetta oppure in un tumbler e nel tumbler on the rocks oppure con chunk o sfera di ghiaccio. Se desideri servire il Boulevardier in coppetta, dovrai fare attenzione alla preparazione perché l'unica diluizione, quindi si parla di diluizione primaria, arriverà dalla tecnica e non ci sarà diluizione secondaria, quella data dal ghiaccio. Diluzione che ricordo è fondamentale, soprattutto in un cocktail come questo. Il cocktail quindi servito in coppetta si manifesterà in tutta la sua purezza, ma la temperatura del liquido si alzerà rapidamente durante la bevuta, aumentando anche così la percezione alcolica e della dolcezza. Se scegli invece di servire il Boulevardier on the rocks, considera che durante la bevuta il cocktail rimarrà molto freddo, ma si diluirà abbastanza, forse anche troppo, durante i periodi caldi, attenuando la forza alcolica, la dolcezza e altre note aromatiche. In questo caso è essenziale utilizzare ghiaccio a cubetto pieno di buona qualità. Se opti per il servizio con chunk o sfera di ghiaccio, sappi che un grosso pezzo di ghiaccio, questo ormai dovresti saperlo, aiuterà a mantenere il cocktail fresco, ma la diluizione secondaria sarà limitata nel tempo e produrrà effetti molto meno impattanti rispetto al servizio on the rocks. Per quanto mi riguarda, mi concentrerei su coppetta oppure chunk, però sperimenta, assaggia, compara e scegli la modalità di servizio migliore per te e per la tua clientela. Prima di passare all'azione e preparare il Boulevardier, parliamo anche di bicchiere e decorazione. Che tu decida per coppetta o tumbler, il Boulevardier si presta ad essere servito anche ad esempio in un bicchiere un po' lavorato dallo stile vintage. Comunque ti consiglio di stare su una linea sobria ed elegante. Questo comunque ovviamente dipende dal contesto in cui ti trovi. Per quanto riguarda la decorazione, scorza di egrume. Non solo arricchisce visivamente il drink, ma influisce anche sul suo sapore finale. Quindi scegli una scorza di arancia per accentuare le note un po' più dolci del cocktail. Opta per quella di limone per un tocco di freschezza. Andiamo a preparare il Boulevardier. Il bilanciamento che ho scelto di proporre oggi è questo. Prevede l'utilizzo di prodotti di ottima qualità e facilmente reperibili sul mercato. Ho scelto di utilizzare 30 ml di bourbon, 35 ml di vermouth e 25 ml di bitter. Quindi ho spostato leggermente l'accento sul vermouth, ottenendo un Boulevardier probabilmente un pochino più morbido, un po' più piaccione se preferisci. Non è detto che sia il bilanciamento ideale per te. Come ti ho già detto, testalo, prova diverse proporzioni, comparele e decidi quello che funziona meglio secondo i tuoi gusti. Allora, andiamo a preparare. Scoliamo l'acqua dal mixing glass che si stava già raffreddando e andiamo a versare i nostri ingredienti. Abbiamo il whisky, il nostro vermouth e infine il bitter. Dobbiamo mettere la giusta quantità di ghiaccio all'interno del mixing glass. Iniziamo con lo stirro. Testiamo un attimo la temperatura. Ti ricordo che puoi anche eseguire lo stirro con il termometro. Un po' di diluizione ancora. E direi che ci siamo. Preleviamo il nostro bicchiere dal freezer con già il chunk di ghiaccio e andiamo a filtrarlo nel bicchiere. Il nostro boulevardier è pronto. Andiamo a mettere la nostra scorzetta di arancia tagliata tonda per l'occasione e andiamo a posare direttamente sul chunk di ghiaccio, se ci sta, in questo caso ci sta, e assaggiamo. Io lo preferisco al Negroni, ma questa è una mia preferenza personale. Con queste proporzioni si manifesta comunque bene il whisky, si sente la nota amaricante del bitter, si sente anche il vermouth, che dà anche un po' di morbidezza in più al cocktail. Ricordate che ne abbiamo messo una piccola quantità in più. Un cocktail comunque molto potente, aromatico, con note amaricanti. Io lo preferisco servito su chunk di ghiaccio, oppure sfera, che come già detto manterrà la giusta temperatura limitando la diluizione secondaria rispetto al servizio on the rocks. Passiamo ad alcuni consigli. Il primo riguarda il pre-batching. Preparare il boulevardier in pre-batch può offrire numerosi vantaggi. Innanzitutto consente una maggiore velocità di servizio, cosa molto importante nei momenti di intensa attività al bar. Ci garantisce una maggiore costanza nei risultati, specialmente se siete in tanti bartender a operare. Offre anche un valore aggiunto in termini di personalizzazione. Preparando un grande volume puoi fare delle micro variazioni, impossibili da fare per ogni singolo cocktail, andando quindi a personalizzare in modo molto fine la ricetta finale. Ti faccio questo esempio. In un locale che ho seguito tanto tempo fa, in un determinato periodo, si vendevano moltissimi boulevardier. In accordo con la proprietà ho deciso di sfruttare questo trend e così ho creato tre differenti pre-batch. Due prevedevano due diversi bilanciamenti di boulevardier, uno un po' più dry e spirit forward, e uno più morbido per soddisfare le richieste dei clienti abituali. Servivamo uno in coppetta e l'altro su chunk. Il terzo era semplicemente un twist. Grazie al pre-batching e al riposo in bottiglia, diciamo che il prodotto può addirittura migliorare un pochino. Si tratta di sfumature, ma il risultato è quello di un cocktail un po' più morbido, con i sapori un po' più integrati tra loro. Abbiamo fatto diversi test a riguardo e questo è quello che abbiamo notato, non solo con il boulevardier. Per carità, non funziona in tutti i casi, però nel caso del boulevardier, secondo noi funziona. Per quanto riguarda il tenore alcolico, per la ricetta indicata, con un volume totale di 90 ml, otteniamo un boulevardier con un tenore alcolico del 17% circa, con circa 18,8 grammi di alcol etilico. Per capirci, quasi lo stesso ABV del Negroni, con circa un grammo in meno di alcol etilico sul totale. Nell'articolo troverai una tabella con alcuni dati sul tenore alcolico di tre diversi bilanciamenti, dati che ho ottenuto con il nostro calcolatore che trovi sul nostro sito. Il boulevardier si presta molto bene ad essere reinterpretato, oltre al semplice bilanciamento degli ingredienti. Ecco allora che si parla di twist on classic. Facciamo alcuni esempi di twist più o meno estremi che puoi sperimentare. Puoi ad esempio invecchiare il boulevardier in botte. L'invecchiamento del boulevardier in botte, in botti di legno, aggiunge profondità e complessità al cocktail. Il legno conferisce note vanigliate, tostate, speziate e dona arrotondità al cocktail. Questo richiede ovviamente tempo e conoscenza del processo, ma il risultato finale è molto interessante. Un'altra tecnica facile da mettere in pratica e che funziona molto bene alla macerazione del batch con ingredienti come frutta secca o spezie, per dare nuove sfumature di sapore, possibilmente senza fare delle macedonie. Ecco, in questo caso fate un po' attenzione poi alla successiva filtrazione. È facile intorbidire un po' il cocktail. Per creare varianti del boulevardier puoi anche effettuare piccole aggiunte o sostituzioni di ingredienti. Ad esempio puoi sostituire una piccola parte di bitter e o vermouth con un amaro ad esempio erbaceo, con una china, con un liquore dolce, ad esempio nel cuore la banana, caffè, cacao, nocciola, eccetera, introducendo così nuove sfumature aromatiche al cocktail. L'affumicatura è un'altra tecnica che puoi sfruttare per trasformare il boulevardier, aggiungendo note affumicate e complesse. Un'altra può essere il fat washing, tecnica che prevede l'infusione di un grasso in un distillato e la successiva separazione, poi per aggiungere al cocktail, note ricche e morbide. Anche questa tecnica richiede un minimo di conoscenza ed è da valutare con cura per una buona riuscita. Questi sono solo alcuni esempi, quindi scatena la tua creatività e sperimenta applicando le varie tecniche in modo possibilmente corretto. Nell'articolo che segue il video trovi diversi link di approfondimento agli argomenti trattati sulla storia, ma anche su alcune tecniche che ti ho menzionato poco fa, come ad esempio il fat washing, la fumicatura, eccetera. Dai un'occhiata perché sono certo che ti saranno utili per perfezionare le tue tecniche. Per quanto riguarda il boulevardier direi che abbiamo detto tutto. Io ti ringrazio per essere stato o stata con me in questo video. Buon proseguimento su Cocktail Engineering ma soprattutto buon boulevardier. Salute! Grazie e Grazie a tutti